Ehi, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Raga, il video che ormai è finita l'estate e riparte il campionato cambia la scaletta del canale e questa volta ci proverò. Allora, il lunedì, se non so non avessi venduto nessuno, e qualche pensiero magari che ne so di cosa penso delle uccide di calciomercato che si dicono, oppure di cosa penso della guerra tra Palestina e Siria, Ucraina e Russia, queste cose qua. Poi il martedì, il recapitale del giornale del campionato, più tra i miei TikTok e il ricarico 1, e in più quando ci saranno il copy or pay, i pronostici. Il mercoledì, che si guarda il telefono i VIP e preparatevi per qua, partiranno anche le 24 ore, cioè magari fra 24 ore, 24 ore, leggo per 24. o cose del genere. Il giovedì scrivo le celebrità e top 10 di qualcosa, tipo la mia top 10 delle mie canzoni preferite, la top 10 delle mie canzoni preferite di ultimo e così via. Cioè non solo del calcio. Il venerdì, l'analisi in giornata del campionato, cioè andiamo ad analizzare come ho fatto per la prima, la giornata che verrà. In più, un ammarcorde, cioè vado a prendere un giorno calcistico e dico che cosa è successo col giorno calcistico. Il sabato, che fin hanno fatto, che non so, il Leicester che inizia la Premier League che fin hanno fatto, che già l'ha fatto. E più un gameplay. C'ho, a me giochi io, Team League Soccer, Osm e basta, questi due. Vabbè, o se no magari play football games e prendo quello là. La domenica invece il vlog settimanale, più qualche, più uno shorts, uno o due shorts, non vedo. Quindi, ragazzi, questo è tutto, fatemi sapere se vorresti cambiare qualcosa, lascio il like, iscriviti, vedete la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao, ragazzi.